Perra, perra, vado a battere! Hai detto Giulia! Largo Dima! giocala 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 Simo bravo Simo 3 minuti ma manca ancora un minuto alla fine vieni a dare una mano Simo Simo ma stai correndo all'indietro come fai a calciare non si possono ancora raccontare abbiamo fatto delle cose che veramente dai oh riccardo cerichi cerichi dai dai non sta là dai dai sali sali Zeno sali ce la fa più abbassati tu Ricchi entra Ferra bravo No No Veloce 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 è comunque un passaggio nostro nooo ma cosa gli ha fischiato? ma cosa gli ha fischiato? ma dai ma cosa gli ha fischiato? ma non puoi fischiare una cosa del genere dai ma come cazzo si fa? ma dai abituiamoci perchè gli arbitri dai non so fuori sulla linea dai 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 vai dentro vai dentro vai dentro oh oh dai 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 guarda che fa battere fischia fa battere fischia fa battere fischia finite 3 poi domenica quando siete in Purchina e non giocare poi vi do dai dico dai dai dico 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 Grazie.